Ciao ragazzi, ben ritornati! Oggi, mattinata del 31 agosto, siamo su un nuovo video di Fortnite. Settembre è alle porte, purtroppo, come ogni anno. Raga, vi siete riposati, vero? Spero tantissimo vi siate riposati, vi siate divertiti quest'estate, abbiate conosciuto nuova bella gente. Raga, purtroppo si riparte e vediamo di farlo tutti insieme nel migliore dei modi. Quindi, ragazzi, riprendiamo come si deve. Signori, siamo su Fortnite, mi trovo esattamente a landa e letali. E sopra c'è già l'immaginetta, come potete vedere. Allora, vi dico la verità, Fortnite ultimamente, ragazzi, non sta dando dei segni così particolari. Non ci sono grosse novità, se non questi rift beacon che si sono creati in varie zone della mappa che ci hanno riportato delle zone vecchie. Nel video di oggi, ragazzuoli, voglio un attimo riprendere solamente la novità del cubo Kevin. L'immagine in alto l'avete già vista e rivista. E siccome il cubo è uno degli elementi che su Fortnite ci ha portato, ci ha regalato anzi più momenti, oltre al razzo, oggi ho fatto questo video per chiedervi una domanda. E infatti i commenti poi, i migliori commenti, li leggerò in live nel prossimo video. E attenzione ragazzi, perché c'ho anche un'altra piccola novità che riguarda un progettino che sto avviando, ovvero un sito internet che riguarda solo Fortnite News e Leaks. E anche lo shop aggiornato ogni mattina alle 2. Un sito che voi aprite, andate su Shop giornaliero e avrete sempre lo shop già dalle 2 di mattina. Ma stiamo cercando persone che siano appassionatissime di Fortnite, soprattutto di News e soprattutto tutto tutto di Leaks. Che siano brave a scrivere in italiano e che abbiano la voglia di scrivere articoli, ragazzi, novità e Leaks di Fortnite. Si tratta di un vero e proprio sito di notizie e Leaks e di shop automatico. Se siete interessati, poi diamo subito al video, link qua sotto del mio server Discord. Sul canale Annunci, il canale testuale Annunci, troverete tutte le info e chi è interessato mi contatta in privato. Mi raccomando ragazzi, ovviamente no per di tempo perché è una cosa piuttosto seria. Discord Annunci qua sotto. Signori, ci siamo! Siamo l'Ande Letali. Allora, la mia domanda è questa. Abbiamo visto che nell'immagine in alto abbiamo chiaramente la zona di Lande Letali. È precisa, è tutto preciso. Solo nel punto è preciso ragazzi, come era figurato nell'immagine. L'isola, il cubo, ne abbiamo già parlato e la domanda è questa. Ma il cubo, come si presenterà? Come tornerà nella nostra isola Battle Royale? E con come tornerà intendo quale sarà l'animazione, quale sarà il nesso logico con la quale si formerà di nuovo il cubo. O Kevin, che è stato svelato nei file di gioco con anche i file audio. Vi do la mia teoria e poi voglio sapere anche la vostra. Ok? Lande Letali. Il Rifty Beacon in realtà si trova più o meno al centro. Quindi probabilmente tutta l'Ande andrà a cambiare. Ma tutta, quindi anche questo laghetto, tutto quanto viene spazzato via. Ma attenzione, perché nell'immagine ci sta anche un effetto tornado. E a vedere proprio qui sopra di me, dove ci sta questo recinto, dove ci sta questo recinto qui, sembra che viene poi tutto spazzato via. Quindi in realtà avremo un cubo, un'isola, bello attivo, ok? Che vuole spazzare forse via tutta Lande Letali. Sarà forse così? Il cubo spazza via Lande Letali creando un nuovo punto di interesse? Con questo edificio con scritto hotel come insegna? La mia teoria è la seguente. Ho pensato addirittura che in realtà il cubo fosse già presente qui sotto al terreno. E che in qualche modo potesse risalire in alto con l'isola come animazione. Ricordiamoci che quando ci sono state le patch note, o meglio quando c'è stata la manutenzione per portarci città pinnacoli, la zona Wild West, durante la manutenzione c'era, ragazzi, l'introduzione sul sito della nuova città. Lo stesso dovrebbe succedere con la nuova Lande Letali. Quindi se questo martedì c'è la patch, avremo sicuramente l'introduzione, una argomentazione breve della nuova città. Esattamente come con città pinnacoli. Quindi una patch note versione 10. bla bla bla, tipo il cubo è tornato, non è più stabile, Lande Letali, nuova città diventa bla bla bla. Speriamo ragazzi sia così perché potrebbe essere tutto quanto sbagliato. Ma ragazzi Rift Beacon non è a Lande Letali per caso. Così come anche questa schermata di caricamento non è buttata lì random. Solamente che voi direte, Dragon ma come fa a salire dal terreno se sopra ci sta una casetta? Il che ragazzi mi fa un attimo ripensare alla mia teoria, ma ragazzi con Epic Games sapete come funziona. Fatto sta che guardando l'immagine sembra che l'isola venga anche da qualche parte. Raga può anche essere che in realtà l'isola con il cubo si generi da qualche parte e venga fino a Lande Letali, distruggendo tutto ciò che gli sta attorno, ecco questa teoria mi piace di più, distruggendo tutto ciò che gli sta attorno con l'effetto tornado che gli sta sotto, che sarebbe la potenza del cubo. Ecco perché il recinto sta praticamente volando in aria nell'immagine di caricamento ragazzi. Questa mi piace più come teoria rispetto a quella che sale dal terreno. Questo raga mi piace, voglio anche la vostra qua sotto con un bel commento raga perché poi li leggerò e porterò quelli più interessanti nel prossimo video, con anche il pollicione in su sotto a questo video, ok? Ragazzi questo è, ma c'è un'altra novità, il game designer, il game designer leader di Epic Games ha dato l'ok quasi, o meglio ha detto che figata ad un concept postato da un utente su Reddit, riguardo all'idea di portarci un nuovo distributore che dia materiale. Il 4 aprile del 2018 ragazzi Epic Games ha inserito i distributori automatici, che come sapete danno tre armi, potete scegliere non solamente uno, ma dovete scambiare materiale. Dopodiché tutto ciò è stato cambiato nella patch non mi ricordo quale, con sempre tre armi, ma completamente gratis, solamente una, e dopodiché la macchinetta andava via, veniva autodistrutta. Epic Games ha dato, diciamo, l'approvazione sembra a questo concept qui, una macchinetta che dia materiali. Ragazzi sarebbe veramente epico, like per chi è d'accordo. Io lo sono tantissimo, immaginate una macchinetta d'oro, un distributore leggendario con 500 metallo ragazzi, tanta roba direi no, completamente gratis, stessa meccanica, lo prendo una volta e la macchinetta va via, si distrugge. Raga, che dire, voglio la vostra, spero davvero martedì sia il giorno raga, perché sono troppo curioso di vedere l'Andele Tali, una zona che non ha avuto mai precedenti città, voglio vedere cosa gli succederà. Detto questo, signori, un bacione a tutti quanti, grazie mille per la visione, noi ci vediamo forse oggi pomeriggio, forse con un nuovo video di Rush Wars, forse, non lo so ancora, altrimenti ci vediamo domani con un nuovo videozzo. Ciao ragazzi, il link qua sotto del mio Discord, se qualcuno è veramente interessato, ragazzi, a questo progetto. Ciao.